Oggi ragazzi siamo qui tornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve Per dare il nostro addio ad un'arma, un oggetto a cui siamo particolarmente attaccati E che purtroppo verrà bannato, verrà tolto dal gioco Allora ragazzi, fermi tutti, stavo editando il video Consapevole di questo problema che c'è stato, regà, perché è successo un casino E quindi devo farvi sta premessa Allora, innanzitutto, questo video doveva essere un video in cui facevamo L'ultimo gameplay con le bombe ballerine Ve lo spoiler ragazzi, stiamo parlando delle bombe ballerine Perché praticamente tutti i leaguer del mondo, ma anche Fortnite stesso In realtà Fortnite proprio aveva annunciato il fatto che avrebbero tolto le bombe ballerine Lo avevano proprio detto ragazzi su Twitter con un tweet Tutti i leaguer ne avevano parlato, tutti quanti ne avevano parlato Martedì c'è stato questo mini aggiornamento segreto E quindi tutti pensavano che le avessero tolte Quindi io faccio questa partita prima di questo aggiornamento segreto E cerco le bombe ballerine Per fare appunto questo ultimo gameplay Spoiler, durante la partita Piano piano io e Serena ci cominciamo sempre di più Che queste bombe ballerine siano state già tolte E quindi è per questo che è venuto uno dei video più divertenti di sempre secondo me Quindi fidatevi, anche se è successo tutto sto casino Guardatevi il video fino alla fine Ma sappiate che appunto le bombe ballerine perlomeno nel momento in cui sto editando il video Sto rifacendo sta clip Ancora non le hanno tolte Non si capisce perché Non si capisce perché abbiano fatto un annuncio del genere Per poi non togliere effettivamente le bombe ballerine Però niente Io ormai avevo preparato sto video Normalmente non lo avrei pubblicato Ma è venuto fuori troppo divertente E non potevo non postarlo E quindi niente Buona visione Ovviamente prima di continuare il video vi ricordo come al solito Di utilizzare il mio codice creatore GGY Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore Ci sia scritto GGY Tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie però di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Ora vi lascio alla partita e al video Buona visione Allora ragazzi Diciamo che nell'intro non ho detto una cosa Ovvero che abbiamo 13 minuti per trovare questo oggetto Quest'arma eh Chiamiamola un po' come volete Appena capite di cosa stiamo parlando Capirete perché sono un pochettino L'ho già trovata No sono lucciole Sono lucciole No 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 c'è gente? Sì Molta gente Ma questo che fa? Questo cosa voleva fare? Voleva piccolare lui Ma che cosa voleva fare questo? Vabbè raga dai l'avete capito L'avete sicuramente capito Stiamo parlando delle boogie bomb C'è un altro qui Sì che c'è un altro qui Il carnage Raga ma questi che cosa vogliono fare esattamente? Questa era tutta gente che avrei voluto far ballare Ma anche che c'hai delle boogie bomb? Non credo è manche che Abbia delle boogie bomb? Ma io c'ho uno che mi vuole Usciare Ok Rotto l'uscita uno Ah Avete attivato le guardie Non so se è lui O tu No io non ho attivato nulla Non ho attivato nulla E anzi ti dirò di più Non sto trovando le boogie bomb Quindi non vorrei che le abbiano già tolte Raga mi sono ricordato tardi di fare sto video Ma in realtà non volevo farlo Però poi ci stavo rimanendo troppo male Del fatto che le tolgono Ok E quindi poi ho detto No dai dobbiamo dedicare un video Alle boogie bomb Che però non stiamo trovando appunto Let's go Se sono arrivato tardi a fare questo video ragazzi Giuro che mi metto a piangere Ma tutte queste ceste qui? Eh in teoria sono con loro Ah seguono loro tipo? Sì Ma che è sta storia? Non la sapevo Me l'ero persa ragazzi Allora qua lo scildone me lo devo fare Ah c'è gente C'è gente qui davanti a me Verso il centro commerciale di Mancake Gli ho rotto lo shield Pensavo mi volesse sparare Invece poi è iniziato a scappare Eh Ah ok Mi sparano sempre dal centro commerciale di Mancake Ah no no sta molto più vicino di quello che pensassi Ok Madonna Spaccato col martellone Era un bel po' che non usavo il fucile assalto a martello Eh Avete delle boogie bomb? No raga dai Non mi dite che veramente ho fatto tardi per fare questo video Un Naruto Dai che tu ce l'hai la boogie bomb Naruto Dai che tu ce l'hai lì Qualcosa di blu e qualcosa Ma non è la boogie bomb sicuramente No Uh la la Un bel martello E ho sbagliato A sparare Un bel martello leggendario Allora io in questa partita ragazzi Sto trovando una maria di pacchi regalo Sto trovando tutte le armi Che mi servono Cioè di tutto ragazzi Veramente Come vedete ho un loot god A dir poco Ma non sto trovando l'unica cosa che voglio ragazzi Avrei potuto anche avere le armi bianche Ma quella cosa l'avrei voluta più di ogni altra roba Sinceramente Le trovate? No Sto andando al bunker Non pingare in vano amore No raga mi sa che ho fatto troppo tardi per fare il video Vi giuro Prima di fare questo video abbiamo giocato delle partite C'erano ve lo giuro O forse no Me le sto solo sognando perché spero di trovarle Mi lanciano granate No 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 c'è un team qui Torna indietro Torna indietro C'è un team qui Di uno che sta tirando le granate a dei lupi Allora l'ho devastato Ok a terra Ma è da solo Ma è qui da solo Stava tirando granate a lupi A casissimo proprio E infatti mi segna altra gente Eccolo C'è gente? Sì Dove? La brutta notizia Ma neanche qua Eh no ma ragazzi Io credo proprio che abbiamo fatto tardi Avevo letto la news Che le avrebbero dovute togliere Il 27 alle 15 Io sto registrando Il 27 alle 15 Meno un quarto Abbiamo iniziato la partita Quindi tecnicamente Ci sarebbero dovute ancora essere Ma mi sa ragazzi Che purtroppo Non ci sono più Eh raga Comunque Anche se ci dovessero essere Ancora il momento in cui Io sto registrando questo video Sicuramente Quando lo vedrete voi Purtroppo le hanno tolte Sinceramente non capisco Il motivo per cui Le abbiano tolte Vi dico proprio la verità La gente che si lamentava Amore Si lamentava addirittura Delle buchi Delle buchi bomb Specialmente in competitive Si lamentavano Perché c'erano pure in competitive Eh vabbè ma togliene in arena Cioè ma sono tanto divertenti Io non le uso spesso Eh anzi vi dico la verità Lo sapete Seguite i video Non le uso quasi mai Eh ma si lamentavano tutti Competitive E no build specialmente Ho capito E va benissimo Però no Allora Voi che vi state lamentando Delle buchi bomb Ci vogliamo lamentare Dei cecchini Che one shottano E non mi venite a dire Che godete Quando uccidete qualcuno Che one shottate Perché siete i primi E io sono il primissimo Lo sapete Per colpa dei Gigi Total Headshot A rosicare Per le one shottate Dei cecchini In un gioco Come Fortnite Dove tu puoi sparare Con un cecchino Anche a un chilometro Di distanza Puoi one shottare Una persona Che è full vita Full shield Full tutto E quindi Se vanno a togliere Le boogie bomb Io voglio far partire Una petizione Per far togliere Anche la one shottata Dai cecchini Per favore Pucca a parte gli scherzi Fatemi sapere sotto Nei commenti Cosa ne pensate Amore non prendere Le rocce così però Chi se l'ha data la patente Stavo pingando Il bunker E sono distratta Dove stai Ah al bunker Stiamo andando Ah intanto stavo andando qua Poi al bunker Va bene Non mi sembra lutato qui Infatti Allora lì dove stiamo andando Al bunker Ho sentito anche spari O meglio mi ha segnato spari Eccoli Quindi stiamo attenti Perché stanno Ah stanno proprio Aspetta aspetta Pusciamoli Sì 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 Ok ci hanno sparato da destra Questo lo mettiamo sotto Che dici Ma sì Ok Ciao Ok a terra Va bene Allora Detto questo No c'è C'è gente che ci spara da ovunque Praticamente No non a noi in realtà Però andiamo al cavo a questo punto C'è gente lì in acqua Ma la lascerei stare Sei tu? Sì Ah stanno arrivando proprio qui amore Stanno arrivando proprio qui Quindi stai attenta Io direi che prima ci conviene farli fuori Sì sì stanno qui Stanno proprio qui Ma che cavolo sta facendo Eh ma c'è gente sopra Ok atterrato Un atterrato E non mi fa entrare Mannaggia la miseria Un altro che sta nuotando Rotto shield Brava E quindi vuol dire Che c'è un altro ancora Eh penso sia quello che L'ho visto salire sulla collina E allora andiamo ad aprire il cavo Andiamo ad aprire il cavo Tanto Dove cavolo è il cavo? Vieni Pappa Ah di là ok vabbè Oh eh signor Mida Eh ciao Raga non voglio dire Che è la nostra ultima spiaggia Ma sì Cioè Eh Ok Va bene Grazie a tutti Stanno ributtati Hanno ributtato qui No non hanno ributtato qui L'avremmo sentito Se avessero ributtato qui Hanno ributtato un po' più in là Ah passi 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 Mi segna passi Ma non è ancora Natale Fra Non è ancora Natale Manco Halloween Ancora è arrivato Ma questo già è vestito di Natale Eh dai Ah c'è gente qua Che sta su un cinghiale C'è anche il blob E lei è laserato qualcosa mi dice Eh uno sì Gli altri due no Uno l'ho laserato Ma quello Ma mi ha preso attraverso l'albero No più che altro Quello che stava volando Atterrato Quello che volava Ma come solo 75 Con quello leggendario Raga Che scam è esattamente Spaccata Quello con la macchina Se n'è andato Mi sa Sì è rimasto solo lui Allora Eh mi devo fare un attino Gli scillini Ma anche tu Non sei messa benissimo Madonna raga Ma che cacchio è Va bene Ce l'hai gli scillini Sì E io farei fuori Sto lupo Che ci sta Scassando le scatole Oddio ma queste sono porte Non le avevo mai viste Sì 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 Ci sono le porte Passi Mi ha segnato passi per un attimo Come passi Oh mio dio Ansia Ma che cappero Ticciolo mi ha segnato passi Mi ha dato adesso una kill Eh mi sa che è morto quello di prima Eh sì Che non avevo finito Infatti non lo ritrovo più raga Non so niente dove si possa essere nascosto Sparano lì Raga Le avranno tolte le boogie bomb Noi però adesso stiamo qui per Sostanzialmente Oh sta qua davanti Sfogarci Ma come non l'ho preso Non mi ha dato la hit Ma raga ma l'ho messo sotto palesemente Solo 55 Vabbè ma sto pump mi scamma ragazzi Cioè il prime contro di me fa certi danni imbarazzanti Contro Eh mo adesso 102 ha tolto Vabbè Ah c'è gente qui Sopra La casetta Ok Sta scappando No 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 Sta dietro la casetta ancora Sta dietro la casetta ancora Bravissima Let's go Raga praticamente abbiamo raggiunto le 20 kill Possiamo dire di esserci sfogati sulla lobby Per questa brutta cosa che hanno fatto Sì ma non dovevano farlo raga Non dovevano farlo Non dovevano farlo signori Questa cosa che ha fatto Epic non doveva farla C'è uno più indietro Sì che cosa ha lanciato in aria esattamente Oh i fuochi d'artificio Quella per localizzarci Eccolo Distrutto letteralmente Ok Va bene Sì 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 Uh Quello mitico è quello dell'Araldo Sì è quello dell'Araldo ragazzi Raga ieri abbiamo fatto un video interessantissimo Sul vampa mitico dell'Araldo Ne abbiamo presi un paio Ed è uscito fuori secondo me un video molto interessante Sui vampa mitici Recuperatevelo Se tutto Che è successo No c'è tutto questo lutto controllato Sì no raga ma non c'è Non c'è proprio Cioè io dopo ci siamo fatti 20 kill Tutta la lobby Abbiamo lutato ovunque Non credo proprio che stiamo parlando di un'arma che non stiamo trovando ma che c'è ancora L'hanno tolta raga L'hanno tolta E allora Gli ultimi due mi sa che sono dentro casa amore mio Perché non li trovo niente No 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 stanno qui Li vedo proprio Distrutto Quello non si muove No raga ma mi sa che sta fermo il compagno Adesso si sta muovendo Stava Stava crashando Era crashato L'amico mi sa Let's go Raga mi sa che hanno avuto problemi Perché stava proprio lì fermo Vabbè E niente raga è stato veramente assurdo Non li trovavamo Non li trovavamo Più di 20 kill Non avete idea di quante città abbiamo lutato Alcune parti le ho dovute tagliare Se no veniva troppo lunga la partita Ci splittavamo con Serena per cercarle meglio Abbiamo aperto una marea di bunker Abbiamo aperto una marea di forzieri Tutto quanto Non le trovavamo Sembrava fatta apposta ragazzi Cioè sembrava fatta apposta A rivederlo adesso Che l'ho finito di editare Mi viene ancora più da ridere Cioè ne stavamo lì a cercarle A cercarle A cercarle Non le trovavamo E alla fine della partita Eravamo convinti Che le avessero già tolte Infatti poi Quando sono scattate le 15 Io non mi sono neanche rimesso lì A registrare il video Perché dico Boh vabbè le hanno tolte E invece Invece no Comunque raga L'ho trattato poco l'argomento Perché poi è passato in secondo piano Visto che non le trovavamo Però mi dispiace Veramente tanto Che la community Ha richiesto ad Epic Di togliere le bombe ballerine Dopo che Epic Le aveva messe Proprio perché la community Le stava richiedendo a gran voce Poi ci chiediamo Perché gli sviluppatori Non ascoltano la community Raga Perché se poi gli facciamo Questi pezzi incredibili Infatti questa volta Non sono troppo d'accordo Con la community Ora tralasciando le boogie bomb Tralasciando le boogie bomb Che ribadisco Io non le uso neanche così tanto Però secondo me Sono divertenti E fa strano Che la community Le richiede a gran voce E poi le tolgono Proprio perché è stata La community stessa A richiedere che vengano tolte Boh non lo so Non lo so Ditemi cosa ne pensate sotto Nei commenti Io questa volta Non credo Di dar ragione alla community Perché dopo che le richiedi Così a gran voce Stai zitto E te le tieni in game ormai E quindi appunto Voglio sapere anche la vostra Nei commenti Vi ricordo ovviamente Anche il codice creatore Fondamentale per supportarmi GG Psi non ti tutto grande Tutto attaccato Ogni due settimane Il codice scato E dovete reinserirlo Grazie però di cuore A chi lo farà Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Fondamentale per supportarmi Mi raccomando ragazzuali E lasciate un bel mi piace E poi ovviamente Come vi stavo chiedendo prima So curioso di sapere La vostra sotto con un commento Comunque per adesso Mi dicevo Le boogie bomb ci sono ancora Vedremo per quanto tempo Martedì prossimo Dovrebbe essere una nuova patch Magari le andranno a togliere lì E chi lo sa Per me è tutto Ci ritroviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi